In questo tutorial vedremo che cosa sono, a che cosa servono e come si possono utilizzare i tesauri nelle banche dati bibliografiche. Un tesaurus è un vocabolario controllato di termini, termini cioè scelti per designare gli argomenti che vengono trattati all'interno degli articoli indicizzati in una banca dati bibliografica. L'utilizzo dei termini di tesaurus ti consente di costruire delle ricerche più mirate e più efficaci. Per designare un argomento in un tesaurus viene scelto un unico termine e a quel termine, detto descrittore o termine preferito, vengono collegate tutte le varianti grammaticali e ortografiche e i possibili sinonimi. Facciamo un esempio. Se devi cercare degli articoli sulla SLA, puoi utilizzare il termine di tesaurus amiotrofic lateral sclerosis. L'utilizzo di questo termine ti consentirà di trovare tutti gli articoli che parlano della patologia, anche se all'interno del record, cioè ad esempio nel titolo, nell'abstract o tra le parole chiave, è utilizzato un altro vocabolo. Non hai bisogno di pensare tu a tutte le varianti, l'ha già fatto per te chi ha predisposto il tesaurus. I tesauri hanno una struttura gerarchica detta ad albero e vanno dal termine più generico al termine più specifico. Osservando questa struttura ad albero, tu puoi individuare il livello di specificità che fa il caso tuo volta per volta. Ad esempio, se devi cercare degli articoli sull'affasia primaria progressiva, puoi cercare affasia e scoprire che al di sotto di questo termine ne esiste uno più specifico che fa il caso tuo. Nei tesauri solitamente si trova anche una nota che spiega il significato con cui viene usato il termine all'interno della banca dati. Leggila sempre per capire se corrisponde davvero in modo specifico al tuo argomento. I termini di tesaurus sono associati ai record dai curatori della banca dati, non si trovano già all'interno degli articoli. Quindi, attenzione, ricordati che quando fai una ricerca utilizzando i termini del tesaurus, escludi dalla tua ricerca tutti quei record che non sono ancora stati indicizzati, cioè non sono ancora stati esaminati dai curatori della banca dati e solitamente fanno riferimento agli articoli più recenti. Quindi, per ampliare la tua ricerca e includere anche gli articoli non ancora indicizzati, dovrai integrarla facendo una ricerca con termini liberi e nel costruire la ricerca con termini liberi dovrai tener conto di tutti i possibili sinonimi e delle varianti grafiche. Facciamo un esempio. Dopo aver cercato amiotrophic lateral sclerosis come termini di tesaurus, avrai bisogno di cercare anche, nel titolo e nell'abstract, tutti i possibili sinonimi per recuperare anche gli articoli più recenti che non sono ancora stati indicizzati e che quindi, cercando con il termine di tesaurus, non avrai trovato. Quando il termine è scelto per effettuare la ricerca, a sotto nella struttura d'albero che abbiamo appena visto, dei termini più specifici, puoi decidere se includerli esplodendo il termine o escluderli non esplodendo il termine. Ad esempio, devi fare una ricerca sull'agopuntura. L'agopuntura ti interessa in generale, non ti interessano specifiche tecniche e neanche articoli sui meridiani e sui centri di agopuntura. In questo caso, non esploderà il termine acupuncture therapy. Il sistema cercherà solo quel termine, non quelli sottostanti nella struttura ad albero. Avrai così ristretto la tua ricerca. Stai facendo, ad esempio, una ricerca sulle manipolazioni muscoloscheletriche e ti interessano, in questo caso, tutte le tecniche. Quindi esploderà il termine e il sistema cercherà, oltre a muscoloscheletal manipulations, tutti i termini sottostanti nella struttura ad albero. In questo modo avrai ampliato la tua ricerca. Se hai recuperato troppi record e vuoi restringere una ricerca, puoi cercare il termine di Thesaurus come Major Topic o Major Focus selezionando la casella corrispondente. In questo modo troverai soltanto gli articoli in cui l'argomento designato dal termine di Thesaurus è uno degli argomenti principali. Se vuoi restringere ulteriormente e mirare al meglio la tua ricerca, puoi utilizzare anche i Sabedings. Sono dei qualificatori che servono a specificare da quale punto di vista vuoi che sia trattato l'argomento di tuo interesse. Ad esempio, se stai cercando degli articoli sulla riabilitazione delle fratture all'anca, puoi utilizzare il termine Thesaurus Hip Fractures e associare il qualificatore Rehabilitation. Ricordati che non tutte le banche dati hanno un Thesaurus e non tutti i Thesauri sono uguali tra loro. Per effettuare una ricerca in PubMed puoi utilizzare il Thesaurus Mesh, mentre in Embase trovi il Thesaurus M3. I due Thesauri Mesh e M3 non sono identici. I termini preferiti per indicare lo stesso concetto possono essere diversi tra loro e avere anche una differente struttura ad albero. Riassumiamo i concetti principali. La ricerca con i termini di Thesaurus aumenta il richiamo, trovi più articoli utili e diminuisce il rumore, trovi meno articoli inutili per la tua ricerca. Ti aiuta a trovare gli articoli su un argomento, indipendentemente dai termini che compaiono nel record. Va integrata però con una ricerca fatta utilizzando termini liberi e non è disponibile in tutte le banche dati. Inoltre, i Thesauri delle diverse banche dati non sono tutti uguali tra loro. Per aiutarti a scegliere il termine di Thesaurus più adatto alla tua ricerca, leggi bene la nota esplicativa, guarda bene la struttura gerarchica, guarda i termini più generici e quelli più specifici. Leggi i sinonimi che sono indicati all'interno del Thesaurus, considera anche i termini simili che a volte il Thesaurus ti suggerisce e chiediti se è il caso di usare dei subheadings, dei qualificatori. Buona ricerca. Grazie. Grazie.